Si intitola Liberi, l'ultimo singolo della band sarda Blackboard, composto da Stefano Bazzoni alla chitarra ritmica e voce principale, Raffaele Chighini alla batteria, percussioni e cori, Mario Dionisi al basso e Federico Polo alla chitarra solista e cori. Il video è stato proiettato in anteprima a Sassari, in apertura della seconda serata della rassegna cinematografica Play Movie Abbaida, spin-off del festival Abba Bula, alla presenza della band e di una folta platea di appassionati, amici ed interessati. Liberi è il brano che anticipa l'uscita del nuovo disco della band turritana, Braille, previsto questo disco per l'autunno 2021. Il concept è di Stefano Bazzoni e Andrea Milia, il videoclip è stato diretto da Andrea Milia, Roni nel riprese drone di Iva Meloni, art direction di Guido Beltrami, produzione mix e master a cura di Valeri Rosati e Fin the Universe Studios. Il concetto alla base del video di Liberi è l'analisi delle nostre prigioni, ha detto la band. Quante volte ci siamo sentiti in gabbia senza renderci conto che la vera reclusione era nella nostra testa? La vita ci porta a ricercare la felicità nei modi più disparati, un modo per raggiungerla e sicuramente la spensieratezza. La decompressione che avviene nel momento in cui ci rendiamo conto che l'accettare il peso della gabbia che ci portiamo dietro dal momento della nostra nascita è l'unico modo per essere davvero liberi. Liberi sì, ma solo a metà.